Un workshop gratuito su terzo settore, imprese e pubblica amministrazione, nuove sfide e opportunità si terrà venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17 nell'aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta destinato ad enti del terzo settore e alle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa che rientra tra quelle del progetto Skill, ovvero un progetto di alta formazione organizzato dal Consorzio Universitario Nisseino per il workshop, opererà con l'associazione Meno. Sarà al centro degli interventi relatori il RUNS, ovvero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed è il Registro Telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli articoli 25 seguenti del Codice del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo Settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. Il tema sarà affrontato a 360 gradi dagli aspetti dei sistemi informativi, fiscali e gestionali alla valorizzazione culturale e regenerazione urbana fino all'efficacia del partenariato con la cittadinanza e del nuovo piano di azione sull'economia sociale dell'Unione Europea visto il processo di societarizzazione che sta riguardando gli enti del Terzo Settore. Interverranno nel corso della giornata l'Avvocato e Presidente del Network Trame Mario Albergoni l'esperta in progettazione culturale Vicepresidente Meno Margherita Orlando la Dottoressa Alessandra Di Forti di Banca Intesa San Paolo il dirigente della Regione Siciliana Maurizio Pirillo il sociologo e docente dell'Università Magna Grecia di Catanzaro Massimo Fotino l'ingegnere gestionale Network Trame Maria Grillo la dirigente NEA Marina Sorrentino e la commercialista componente del Network Trame Ileana Chifari.